Un gesto di disperazione che rappresenta un grande monito per il mondo della politica, dice il presidente della CEI, Cardinal Bagnasco. Comincia da lì ma non finisce lì la lunga lista delle condanne per l'agguato di Palazzo Ghigi, prime fra tutte quelle dei presidenti di Camera e Senato. Per Laura Boldrini la crisi trasforma le vittime in carnefici e allora la politica deve dare risposte concrete a un paese che soffre, mentre Pietro Grasso inserisce un ulteriore elemento di preoccupazione, dicendo che bisogna evitare di aprire una strategia della tensione. L'attenzione dunque è concentrata sui possibili contraccolpi emotivi e su quei rimbalzi del clima d'odio sempre pronto a diffondersi dalla cronaca alla politica. Ed è proprio il clima di odio a far nascere le polemiche, con Lega e PDL all'attacco contro chi getta benzina sul fuoco dell'odio sociale, con il sindaco di Roma Alemanno che parla di una tensione crescente che trova l'infa in chi lo fomenta quell'odio. Maurizio Gasparri, che ricorda chi ha invocato bombardamenti sul Parlamento, e Renato Brunetta convinto come l'episodio sia il frutto di tanti anni di antipolitica e negazione dell'avversario. Sul banco degli imputati finisce Beppe Grillo, il quale prende però subito le distanze. Il Movimento 5 Stelle non è violento, la democrazia non accetta violenza, piena solidarietà alle forze dell'ordine e speriamo che si tratti di un episodio isolato e tale rimanga, dice Grillo. Che trova una sponda dall'ex segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, per il quale è un grave errore chiamare in causa i 5 Stelle, e dal PDLino Rotondi, nessuno speculi sull'accaduto, dice. Mentre Nichi Vendola di Selle evoca il regime per chi non si piega all'inciucio, un pazzo spara ed è tutta colpa di chi dissente, si chiede Vendola. Clima infuocato e alle parole responsabili del vicepresidente del CSM, Vietti, troppa disperazione, occorre ricostruire la fiducia, basta soffiare sul fuoco del malcontento. Fanno da contraltare quello del capogruppo dei 5 Stelle a Torino, Vittorio Bertola, secondo il quale molti hanno pensato magari avesse sparato a un ministro. Parole deliranti e irresponsabili, dice.